Il tuo biglietto ci aveva convinti a lasciare Zarco a te. Avete capito che non sono vostro nemico. Era un biglietto davvero molto interessante. Era tutto ciò che avevo. Il mio passaporto per tornare nel ventesimo secolo, dalla donna del mio cuore. E quando Thor torna nell'epoca e nelle veste di Don Blake, il suo primo pensiero è rivolto a Jane. Sono lieto di aver avuto la vostra foto con me nel mio viaggio d'affari. C'è davvero quel proverbio che dice una fotografia vale più di mille parole?